Oggi abbiamo avuto l'apertura di stagione del 2017 e naturalmente abbiamo avuto un po' di sfortuna con il tempo, però abbiamo cercato di far volere ai amici, simpatizzanti, ai soci e naturalmente ai miei parenti diretti di cosa siamo capaci di fare. Sono andato due mesi fa al raduno dei Cesna a Ponte 21, il quale è stato il raduno degli aerei Cesna e ho rappresentato questo modello, ci sono molto avvarsi del mio pilotaggio e naturalmente del bel modello che ci presenta. Oltre al nostro gruppo che è formato dagli aeromodelli, è formato dagli alieni, dagli elicotteri, dai droni ormai che sopravvengono oltre alla nostra tecnologia che siamo ormai passati noi e vanno con i droni con il metodo FPV che vuol dire con gli occhiali addosso è come se fossero a bordo di questi oggetti volanti molto strani ma però bellissimi da vedere di competizione. Questi sono droni FPV che si pilotano per mezzo degli occhiali con un visore, a bordo del drone c'è una telecamera che permette di vedere e di trasmettere il video negli occhiali e poi si fanno questi percorsi con dei gate da passare o delle bandiere da fare degli slalom e questi droni qua sono fatti tutti a forma X, sono con quattro motori, quattro regolatori, una scheda di volo che controlla il volo, si comandano da radio e si vola attraverso il visore, questi occhiali che uno riesce a vedere in che punto è della pista o quant'altro. Il pilotaggio di questi droni è abbastanza semplice diciamo perché comunque è come essere sempre a bordo quindi uno se li trova sempre giusti invece che volare a vista se uno ha il drone che gli arriva contro di lui i comandi se li trovi invertiti rispetto a lui, invece è come essere a bordo del drone quindi i comandi sono sempre giusti.